buongiorno buonasera o buonanotte a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video da ora questo sarà il mio nuovo saluto deciso so che mi aspettavate direttamente allo stand show ma preferito iniziare il video da qua perché è un posto bello oggi è venerdì quindi un giorno prima ancora dello stand show che lo stand show si terrà sabato e domenica oggi abbiamo le prove libere e vi porto una novità assurda le mie jordan da gara racing queste jordan sparano scintille ragazzi sono assolutamente fantastiche e credo che una cosa così su youtube italia non si sia mai vista lasciate nei commenti cosa ne pensate di queste fantastiche scarpe sono addizione limitata nch devo ringraziare mio padre che mi ha aiutato a farle è stato un grande per come ha pensato di costruirle anche se vanno migliorate siccome balla un po quindi deve rimanere più saldo in questi due punti vando alle ciance andiamo in moto oppure ci vediamo direttamente la con quel poco di batteria che rimane cerchiamo di registrare qualcosa qua oggi questo è il posto domani vedrete il tutto carico la gopro e sarà una figata totale sempre col mio amico di ferro bella di sera si vedono un sacco di giorno proprio niente con tutto questo vento raga ci vediamo a domani buongiorno a tutti siamo pronti per allenarci prima dello show che si terrà le 10 ora sono le 9 praticamente dobbiamo togliere la targa e sistemare due cosette della moto come dicevamo siamo qua apposta per questo show e vi farò vedere delle riprese mentre girò e mentre girano gli altri ci sono ragazzi molto molto bravi e ora abbiamo un quarto d'ora per allenarci prima dello show stringiamo bene qua e non la perdiamo ok facciamo due pinni giusto per giusto per allenarci un po forse sgonfiare un po la gomma abbiamo la nostra suola in ferro magnifica questo ragazzo è un 2004 grande lui con un 50 originale valenti e poi c'è diego che sul suo 300 ci fa veramente quello che vuole che bravo ragazzi va dove vuole raga è proprio è proprio assurdo weila dopo l'ora tocca a me e luca comi ora siamo al primo show di mattina infatti non c'è molta gente ma già diventa interessante la situa gamba ragazzo eh gamba ragazzo eh andate ok vai vai Anche lui la vuole finire a punta la gomma La vuole finire con 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 la gomma Grande Benvenuti allo show del pomeriggio Vai Vai Grazie Buongiorno Buongiorno oggi partiamo da qua Abbiamo già registrato in verità delle clip prima mentre eravamo giù ad allenarci Però siamo andati a fare colazione e adesso torniamo dagli altri Torniamo dagli altri per poi iniziare lo stand show tra un quarto d'ora Ci vediamo in moto Buongiorno 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 Buongiorno